manca poco più di un mese ad artissima 2024 e noi siamo al lavoro per tornare ad accogliervi a torino nella speciale cornice dell'oval lingotto per questa mia terza edizione alla guida della fiera ho scelto un tema che come sempre possa essere fonte di ispirazione per tutti i visitatori the era of daydreaming l'era del sogno a occhi aperti proprio il sogno a occhi aperti è una potente attività della nostra mente che ci accomuna tutti come esseri umani consente di plasmare le nostre relazioni sociali dare risoluzione a problemi e motivarci in avanti attraverso l'esercizio dei nostri desideri gli artisti attingono più che mai a questo potere immenso della mente per creare le loro opere e così è proprio attraverso il sogno a occhi aperti che l'arte travalica le barriere di ciò che è noto per immergersi in un territorio tutto da scoprire artissima 2024 vuole omaggiare la forza del sogno occhi aperti e mostrano gli esiti e le evoluzioni attraverso le oltre 1500 opere esposte presentate da 189 gallerie di cui 37 presenti per la prima volta in fiera eccovi qualche anticipazione quest'anno le gallerie provengono da 34 paesi e quattro continenti con una grande rappresentanza dal sud america e dall'est europa sono invece 31 le gallerie che compongono il bouquet delle tre sezioni curate disegni present future e back to the future affidate alla regia di un rinnovato team curatoriale ad esempio joel valabrega e leon krauswijk per present future heike munder e jacopo crivelli visconti per back to the future 13 in tutto i premi riconoscimenti ai fondi assegnati in fiera mentre sono ben oltre 50 i curatori e i direttori di musei italiani e internazionali coinvolti nelle giurie e nei progetti speciali siamo al lavoro per rendere ancora una volta la fiera un appuntamento imperdibile sia fisicamente quanto virtualmente continua infatti l'investimento online di artissima con il catalogo digitale delle opere lo sviluppo della piattaforma multimediale artissima voice over le audioguide in fiera e la serie podcast di artissima l'agenda degli appuntamenti inoltre sarà ricca di eventi incontri talk presentazioni di libri e di magazine e progetti speciali in fiera e in città tutti realizzati in collaborazione con le istituzioni i nostri partner e le nostre gallerie qui siamo estremamente grati per aver contribuito a rendere unica questa nuova edizione artissima chiama quindi a raccolta la sua comunità di daydreamers e vi aspetta a torino dal primo al 3 novembre nel frattempo continuate a seguirci sui nostri social e sul nostro sito artissima punto art grazie a tutti grazie a tutti